La bellissima concorrente, 12esima, 11esima ai recenti campionati europei, ha partecipato ai mondiali del 91 con il 15esimo posto. Vorgiak, danze slave, opera 46 per Lenka Ulovana. Vorgiak, danze slave, opera 46 per Lenka Ulovana. E' il dubbio tol, triplo tol. Vorgiak, danze slave, opera 46 per Lenka Ulovana. 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 Vorgiak, danze slave, opera 47 per Lenka Ulovana. Grazie. Grazie.